Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! A posto, a parte del Tato, ma... Big, grazie P9, bentornata. Stranissimo è Cristian, bentornale. Cerca Ancro, porco Dio, Zimo, faccio una storia, madonna puttana, mi prendo una denuncia grossa quanto una casa, ma ho bisogno di farla, bro. Niente bingo! Bingo! Ma, ma che stai a giocare a bingo? Posa il cellulare? Niente ragazzi, ha vinto mia madre. A un certo punto ho scritto, con tutto quello che è costata, quella costata. YottopinStream ha detto che anche lui ti segue e gli piaci, live insieme. No clip, non credo, non ci credo, mi dispiace. Mi dispiace. Senza clip non vedo, non ascolto nessuno. Jammo che è felice di essere nuovo. In Death Stranding c'è anche un bel po' di stealth, eh. Ti credo. Ti giuro, io ti ripeto, per quanto trovo il cazzo è una bellissima forma proprio umana. Ah, troppi pregiudizi. Hai visto troppi meme su... Pasta di 3 del Dive. Non ho giocato, ho giocato tipo i 5-6-2. 14-188, guarda, guarda lì. Antonio, io Mario Runcio Un огрuredito Influenza Un negativo Un negativo Questo non c'è dottantissima omesse di Today Residente Brooklyn ologist Un negativo Un negativo Un negativo Una è la verità Un negativo Un negativo Un negativo CH43 Un negativo Un incidente Un ankle o morto essere ingoiato caeros grazie per i 22 mesi bentornato nella stalla dei divini cavalloni grazie per andare avanti il mio sogno Dario bentornato torno a x paolo di andrea nico falco valentina auter allora la prossima donna che si sa da questo canale prendi il volo è non vogliamo donne no 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 non siamo abituati non ci piace ma è davvero dal tonico pensavo fosse un meme prendersi attaccarsi a una persona essere trascinata in velocità da quella abis filippo fiore e il no a proposito di morte che sarebbe divertente se uscisse gabbo di square ed vi volevo presentare questo ragazzo e tiro forte per la tombolata ve no no ne facciamo 8 strange ed a prossima entri vi volevo presentare questo ragazzo a proposito di morte ti giuro io io va a destra va a destra frate va a destra va a destra va a destra allora il personaggio va troppo più a destra devo passare sulla destra devo passare il numero abbiamo il 58 letto al contrario 85 sono le gambe il 69 è uscito il 69 è uscito no non è uscito il 69 le gambe delle donne le gambe delle donne le gambe delle donne le gambe delle donne il 69 è uscito avevamo avevamo mettiamoci una testa che partono forte partono forte stiamo lì e stiamo lì giochiamo ancora ancora così e si riparte se dai armando porco dio dai e secondo tempo fiorita in vantaggio 1 a 0 sull'intrescaldes intrescaldes che però non ci sta e allora attenzione il miracolo di vivan su casa desus e poi ancora soldevilla potrebbe andare soldevilla mose ci mette il piedone ma frate soldevilla fiorita porco dio non si non si conta non si conta che avevo il mouse sull'altro schermo non mi ha preso proprio i tasti vedo che ti stai divertendo già mo non prendi i salti ma come cazzo fai ma non puoi giocarci scusate insieme fatevi una domanda perché se sono tutti così amici porcuccio solo e checco non giocano insieme regà ma fatevi due domande perché perché io ero l'unica persona che teneva saldo quel gruppo che si stava sfasciando perché checco bomba si sente sto cazzo da quando ha perso 5 kg è diventato mister discoteca vado in giro a rimorchiare porcuccio si era rotto il cazzo di stare insieme a me sol si era rotto il cazzo di stare insieme a me e non venivano più a giocare quindi ho detto sapete che c'è tutti quanti a casa mi sono cagato in mano io per stallion tv un tempo punto esclavativo porcuccio non esiste ma soprattutto se si sia creata questa cosa ma come l'ha detta dopo quindi non voglio manco di parolacce perché non me va e no ma ha detto non me ne frega un cazzo direttamente dal vocabolario dei giocherini